Belaio bentornati su RealNapoliFootball Ragazzi dobbiamo provare ad andare in divisione 4 Veniamo da una sconfitta un po' pesante contro l'Arsenal Ma in realtà vi dico ragazzi che il sponteggio 7-3 è molto pesante rispetto a quello che si è visto Magari andate a dare un'occhiata alla partita Detto questo vediamo il prossimo avversario L'avversario di questa puntata L'avversario che potrebbe regalarci la divisione 4 Detto questo siccome sempre se vi fa piacere lasciate un like al video Iscrivetevi al canale e soprattutto commentate a fine partita E farmi sapere che ne pensate di quello che avete appena visto Vediamo chi ci capita Avversario trovato Vediamo un po' Avversario trovato Catanista Esport Club Bahia Bahia Napoli Bahia Catanista Esport Va bene Oppure come se è pieno attacco a 2 nel 4-4-2 Eh sì no ma lo so Infatti ripeto Il Spostarlo a destra La possibilità è un po' forzato Ma Diciamo ripeto Non mi è dispiaciuto Natan è morto Perfetto Giocherà One Jesus A fianco di Racamani Diego lo facciamo entrare Casano nel secondo tempo Va bene così Eh Ok Una serie di fenomeni Va bene ragazzi Andiamo a provare a prenderci Questa santissima 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 Divisione 4 Sì lo so Cioè lo so ma ne sono accorto Chiaramente che non fa movimenti In profondità Infatti devo dare palla sui piedi E poi devo passare Sostanzialmente Quella è La cosa Infatti in realtà Potrebbe poter utilizzarlo spesso Vi dico Per esempio adesso Se ho bisogno di recuperare la partita Magari Lo metto trequartista Per esempio Comunque Proviamo Ad andare in divisione 4 Ragazzi Contro il Baia Attenzione Provano a partire loro Partono un po' di palleggio Sporca palla Anghissà Di Lorenzo la mette giù Anghissà Appoggia Zielinski Che di esterno Palla pazzesca Che Clara non riesce a prendere Attenzione Anghissà Arriva Lobo Rachmani Palla per Di Lorenzo Anghissà Larga per Matteo Politano Che prova il drilling Fermato Matteo Lobo Ancora brecca Centrocampo Poggia Zielinski La palla non arriva a Zielo Perché c'è quel cazzo di Vera Ragazzi Pendeci prenderà Parecchi palloni Vera Zielinski Con Mario Rui Ricupera palla Paraschelia Mario Rui Zielinski Lobo Capede dall'altro lato Politano Gran palla di Lobo Politano la mette In giù Cross E mezzo Non c'è un simenna Niente da fare Zielinski La mette a terra Peccato Rilancia Viera Non la prendere Ok Mario Rui Palla Sbagliata di Rui Attenzione Prova a ripartire Coluseschi Qui Con Juan Jesus Che lo rincorre Fallo laterale Ancora nostro Juan Jesus Verso Mario Rui Che spazza Qui per evitare Problemi Paraschelia Riesce a prendere Palla Attenzione Anghissà Belbreck Anghissà Vada Politano Dribbling Di Politano Attenzione Politano Dentro Per Anghissà Incredibile Via Ragazzi Attenzione Zielinski Allarga Per Politano Dribbling Di Politano Politano Cross E mezzo Osimene Niente Anghissà Palla strana Ceosi fuori Attenzione Politano Politano Non ci credo Politano Non ci credo Ragazzi Cazzo È successo Attenzione Break Di Zielinski Che va dentro La Paraschelia Attenzione Il rischio Ancora Qui il Bahia Provano Uscire Da dietro Zielinski Proviamo a pressare Noi Zielinski Prova a recuperare Palla Arriva Anghissà Paraschelia Dentro Per Osimene Palla sbagliata Di cara Però Porca Puttana Arriva Anghissà Palla per Politano Dentro Per Osimene Ma che cazzo Ha preso Che cazzo Ha preso Sommer Ragazzi Che cazzo Ha preso Sommer Ma stiamo Andando Bene Stiamo Andando Bene Zielinski Zielinski Parla Verso Vittor Osimene Che Prova a rimetterla Dentro Niente Da Fare Spazzano Loro Rachmani Non riesce A metterla Fuori Subito Nemmeno In seconda Battuta Deve scendere Ancora Adesso Anghissà Dare Una mano Ziedischi Niente Da fare C'è ancora Rachmani Che esce In maniera Sconsiderata Qui Riusciamo a Ricoperare Palla Tensione Arriva Ancora Rachmani Incredibile Riescono Ad arrivare Fino in Porta Meret E poi Di Lorenzo La mette Fuori Mamma mia Meret Ci ha salvato Qui Attenzione Kimmich Esce Mario Lui Zielinski Allarga Per Politano Prende Palla Buca Il difensore Politano Se ne va Politano Prova a Metterla Dentro C'è la Viera Attenzione Pau Torres Niente Da fare Attenzione Attacca Ancora Il Baia Qui Natano One Jesus Natano Non c'è Attenzione Pirlo Ancora Partire Si sta Congelando Un po' Centrocampo Adesso Attenzione Loro Fanno Girare Bene Palla E Anche Le mie Palle Onestamente Al momento Lukaku Di Lorenzo C'è Neymar Di Lorenzo Buona lettura Qui Poi va Direttamente Da Matteo Politano Che Appoggia Nanghissà Che La Dà Osimè Dentro Per Nanghissà Che Prova A Cambiare Tutto Pensavo Fosse Solo Che Vara Scheda Sinceramente Ragazzi Niente Da Fare Provano A Rimpostare Loro Attenzione Politano Ricoprò Una Gran Palla La Palla Zielo Palla Per Anghissà Appoggia Per Di Lorenzo Dentro Per Politano Che Cross E Mezzo Calcio D'angolo Calcio D'angolo Riproveremo Il nostro Schema Per l'ennesima Volta Con Zieliski Che Va Da Vittor Osimè Che Prova Rimetterla Dentro Quara Schella Qui C'è Quara Schella Su Assis Di Vittor Rosimè Ragazzi Giocata Pazzesca Calcio D'angolo Come Sempre E Quara Non si è Fatto Pregare 1 A 0 Ragazzi Rachmani Attenzione Mario Rui Gran Recopra Palla Di Rui Scende Rui Che Allarga Per Quara Schella Quara Schella Dietro Per Zieliski Che Cambia Tutto Verso Matteo Politano Bel cambio Gioco Qui Dribling Di Politano Che Cross E Mezzo Ciosi Man Palla Pericolosissima Di Politano Verso Osimè Spazzano Loro Mario Rui Verso Quara Schella Palla Per Mario Rui Quara Schella Fermato Da Coluseski Attenzione One Jesu Qua Sfiga Totale Per One Jesu Peccato Di Lorenzo Recupera Una Gran Palla Di Lorenzo Palla Per Politano In Profondità Politano Dentro Per Anghissà Che Vede Osimè Osimè Perde Troppo Tempo Per Arrivare Al Tiro Iniziano Ripartire Loro Anghissà Recupera Palla Cavara Schella Si Ferma Cavara 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 Schella Cross In Osimè Vittor Osimè Di Testa Unisce Ancora 2 A 0 Ragazzi 2 A 0 Bene Così Primo Tempo Finito In Vantaggio Ragazzi Stiamo Andando Bene Dobbiamo Provare A Chiuderla Per Portarci A Casa Divisione 4 Ci sono Ci sono Una cosa Che mi serve Osimè Palla Per Lobotka Verso Mario Rui Che Appoggia Zieliski Che La Lobotka Che La Ridà Zieliski Che Si Gira E Appoggia Per Cavara Schella Del Quara Dentro Per Anghissà Bella Azione Anghissà Ancora Per Zieliski Che crossa Dalla Tre Quarti Ceo Si Arriva Anghissà Peccato Qui Attenzione Prona A ripartire Loro Attenzione Qui A non Farci Prendere In Contropiede Ok Meret Può Bloccare Facile Benissimo Alex Meret Che Rinancia Lungo Verso Vittor Rosimè Che Prova A girarla Cavara Schella Niente Da Fare Prova Ad Arrivare Cavara Niente Attenzione One Jesus Prona Attaccare Loro Di Lorenzo Esce Giannino Di Lorenzo Fantastico Di Lorenzo Che prova Ad andare Da Politano Per poco Non ci va E per poco Non nasceva Un'azione Fantastica Pericolosissima Più che altro Attenzione Di Lorenzo Rachmani Cambia Tutto Verso Paraschelia Che prova Ad appoggiare A zielo Niente Da Fare Attenzione Osimè Si chiudono Bene Qui Escono Palla Al piede Attenzione Con Anghissa Che corre Appresso A tutti Praticamente Ancora Anghissa Niente Da fare Mario Lui Pirlo Bella Palla Dentro Per Kimmich Attenzione One Jesus Deve Chiudere Rachman Di testa Anghissa Va Da Politano Che Appoggia Ad Osimè Che Prova Ad Andare Da Politano Non Ci Riesce Non Ci Non Ci Come Sono Arrivati Lì Da Lukaku Non Lo So Ma Alla Fine Prende Palla Lobotka E Quara Schelia Prova A cambiare Tutto Verso Matteo Politano Che Di Testa Prova Ad Andare Da Cosimè Niente Da Fare Ancora Zilischi Allarga Per Quara Schelia Confusione Un po' Centrocampo Adesso Errori Da Una Parte E Dall'altra Attenzione Neymar Verso Pempe Cross In Mezzo Meret La Mette fuori E Anghi Sa Va Da Quara Schelia Che Riesce A Squizzarla Ma La Palla Non Riesce A Metterla Giù Male Molto Male Palla Ancora Dentro Arriva Lui C'è Neymar Mario Lui Zilischi E Quara Schelia Cambia Tutto Verso Di Lorenzo Bella Giocata Di Quara Di Lorenzo Vada Politano Prova Il Dream Politano Niente Mario Lui Non Riesce Di Questa Palla Meret La Mette fuori Ed Anghi Sa Prova A Dare Da Osiman Di Lorenzo Prova A Metterla Da Zilischi Niente Da Fare Lobotka Bella Palla Però Non Arriva Quara Schelia Prova A Chiedere Ancora Lobo C'è Bisogna Di Qualche Cambio C'è Bisogna Di Forza Fesca Qui Attenzione Di Lorenzo Deve Chiudere Wan Jesus Palla Per Zilischi Che Allarga Ancora Per Kavara Schelia Dribling Di Kavara Dentro Per Victor Osiman Che Prova Ad Andarsene Victor Poggia Dietro Per Kavara Vada Zilischi Che Cross E Menso Con Victor E Mette Verso Politano Niente Da Fare In In Lobotka Break Di Lobo Poggia Per Zilischi Che Si Gira Prova Sparare Di Sinistro Zilischi Dentro Per Victor Osiman Che Si Gira Victor Non Riesce A Tirare Kavara Schelia Proviamo A Chiudere Ancora Con Lobotka Niente Da Fare Attenzione Jesus Ne Marla Pempe Arriva Ancora Di Lorenzo Che Abatte Pempe E Fa Bene Perché La Palla Torna Di Lorenzo Palla Per Politano Si Gira Politano Dentro Per Osiman Che Vede Kavara Schelia Che Spara La Parata Di Sommer Ancora Sommer Ancora Quel Santissimo Sommer Che Non Ci Fa Chiudere La Partita Allora Dentro Diego Al Posto Di Politano Sempre In Questo Caso Perché Non Voglio Scoprirmi Zilischi Stanchissimo Ragazzi Stanchissimo Metto Un Po Caciust E Facciamo Caciust Mediano E Lobotka Tre Quartista Mettro Un Po Il Ciolito Simeone Perfetto 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 E Vi Vi Dico E Faccio Giocare Anche Giacomino Raspadori Al Posto Di Paraschelia Che Comunque Stanco E Va Bene Così E Metto Un Po Al Posto Del Maestro Che Qualche Calcio D'angolo Meglio Avere Qualche Gio Adore Un Po Più Alto So Ragazzi Lì Ha Un Passo Olivera Palla Caciuste Dentro Per Anghissà Vede Il Ciolito Simeone Che Prova A girarsi Niente Da Fare Attenzione Caciuste Lobot Che Appoggia Poi Per Olivera Che Allarga Verso Raspadori Che Appoggia Ad Anghissà Che Si gira Palla Per Il Ciolito Simeone Dentro Per Raspadori Che Tira La Parata Di Sommer Incredibile Ragazzi Incredibile Sommer Di Sbaglia Non A ripartire Loro Caciuste Va Direttamente Da Giacomino Raspadori Osime Eh Osime Mamma Simeone Peccato Da Quella Palla Raspadori Sarebbe Stato Caciuste Prova A chiudere Attenzione C'è Kimmich Caciuste Anghissà Vierà Attenzione Vanno Dentro Loro Di Lorenzo Che Ha Annullato Totalmente Annullato Totalmente Pempe Anghissà Il Ciolito Anghissà Ancora Niente Da Fare Ciolito Simeone La partita È Chiusa Ragazzi La partita È Chiusa La Divisione 4 È Presa Andiamo Cazzo Divisione 4 Bella Vittoria 2 0 Bene Così E Dalla Prossima Puntata Inizieremo La Scalata Alla Divisione 3